Con il cambio di stagione non so mai dove mettere i vestiti che non uso più. Aiuto! Vuoi un consiglio? Non buttare via i tuoi vestiti. Portali al bottegone del riuso. Potrebbero essere utili ad altri. I nostri volontari ritirano abiti uomo, donna e bambino. Partecipa a questo grande progetto cittadino per supportare le famiglie bisognose della città. Grazie a tutti.